La liturgia di questa domenica coincide con la festa della presentazione del Signore ed è una grazia poter contemplare questo evento, il momento in cui questo bimbo piccolino compiuta la purificazione rituale secondo la legge di Mosè viene portato a Gerusalemme e è il momento in cui lui avendo ricevuto il suo nome viene presentato in quanto primogenito che è sacro al Signore e quindi Maria e Giuseppe dovranno offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi come prescrive la legge del Signore. Vediamo un pochino di capire. È la storia del momento in cui Gesù viene proclamato salvezza del mondo, luce delle genti, da un anziano, Simeone, il quale appunto dirà poi delle cose molto molto serie a Maria e parlerà del segno di contraddizione che questo bimbo diventerà e della spada che entrerà nel cuore, nell'anima di Maria. Qual è il senso di tutto questo discorso? Qual è l'atto che viene fatto da Maria e Giuseppe? Devono portare il primogenito e offrirlo al Signore e riscattarlo per mezzo di un sacrificio perché è del Signore. Cosa vuol dire? È interessante che se noi andiamo bene a vedere tutto questo testo gira intorno a dei dati, quello con cui comincia la purificazione. C'è un tema di purificazione e c'è anche un sacrificio di offerta e poi arriveremo infatti a questa contraddizione e questa spada che trafigge l'anima. Qual è l'argomento? Il Signore Gesù arriva e Maria stessa insieme a Giuseppe deve passare per questo atto, che è l'atto di ricordarsi, che deve offrire al Signore o meglio riconoscere che la vita di questo bimbo è un dono di Dio e che a lui va riferita. Ed è interessante che lei nel testo appunto lungo, sperando che venga proclamato il Vangelo lungo e non venga fatta una proclamazione troppo succinta di questo testo così importante, nel testo lungo appunto della liturgia si parla della purificazione, come abbiamo già detto. Maria si doveva purificare dopo il parto, il bambino va offerto come riscatto e che cosa tocchiamo? Maternità? Paternità perché curiosamente il Vangelo di Luca mette il plurale pure per Giuseppe che non doveva fare nessuna purificazione eppure deve entrare in questa logica. E infatti più avanti si dice che il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui e sentono parlare di questa contraddizione, di questa battaglia, di questa difficoltà. Avere un figlio, diventare padre, diventare madre. abbiamo bisogno di purificazione, tutti quanti abbiamo bisogno di un'operazione di crescita, di un passare per il fuoco, di una spada che tocchi il nostro cuore, perché il nostro cuore non può essere preso così, integrale, così com'è. No, noi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo vivere in un meccanismo di liberazione, in una vita in cui dobbiamo saper dare a Dio il primo genito e riconoscere che è suo. Qui c'è qualcuno che è Simeone che tutta la vita aspetta la consolazione di Israele, tutta la vita aspetta di poter incontrare il Messia. Orientare la vita ad una meta vuol dire iniziare anche ad abbandonare le cose secondarie. C'è un processo di purificazione che è necessario per tutti noi, c'è un processo di liberazione dal possesso che è necessario per tutti noi. Noi non possiamo diventare padri, madri, in tutte le forme, in tutte le dimensioni in cui questo può essere fatto, se non sappiamo anche liberarci di qualcosa, vivere i nostri distacchi. In fondo la nascita è un distacco e la vita è un distacco e bisogna ricordare, perché il centro di tutto questo testo è l'offerta del primo genito e ci rimanda ad Abramo che deve offrire il primo genito per diventare veramente padre. Ecco, tutto questo testo ci parla di questo essere capaci di vera paternità, capaci di vera maternità, che è rispettare, distaccarsi, fare un passo indietro rispetto alla vita dell'altro. C'è una contraddizione in cui dobbiamo entrare nel nostro cuore. Questo aspetto della paternità e della maternità che richiedono purificazione, richiedono capacità di stacco, richiedono tagli, richiedono consegna della vita e quindi non trattenere la vita, non darla ma poi riprenderla, non darla ma darla a condizione, no, darla proprio. Crescere persone, uomini, donne che divengano autonomi e non estendere il proprio possesso su di loro. Tutto questo si allarga ad ogni dimensione della vita. Noi abbiamo bisogno di questa purificazione perché il nostro cuore deve essere contraddetto. Il Signore Gesù che arriva porta una contraddizione. Questa è anche la festa dei consacrati nella tradizione della Chiesa. Chi è un consacrato? È un uomo che vive qualcosa che è coessenziale con il battesimo. Il battesimo, persona dura, non è chiamato essere di Dio. Ma se io sono di Dio, non sono del mondo. Allora un consacrato fa presente con scelte radicali che lui è di Dio fino in fondo. Ma questo lo siamo tutti. Tutti siamo chiamati nelle cose, nelle scelte, nei fatti della nostra vita a prendere quella strada lì, a non vivere ambiguamente, ma essere consacrati al Signore, essere votati a Lui, cioè secondo il bene, secondo l'amore, secondo la vita, secondo il Regno dei Cieli. Allora conseguentemente noi proclamiamo in questo testo che abbiamo bisogno di essere contraddetti dalla parola di Dio, essere contraddetti da Cristo, il quale essenzialmente non può rinunciare a essere una cosa che ci dà un po' di fastidio, che è contraria alla nostra logica. Perché un uomo che dice che nessuno può essere suo discepolo se non sa rinunciare a tutti i suoi averi, che nessuno può essere suo discepolo se non rinnega se stesso, prende la sua croce e lo segue, che nessuno può essere discepolo se non perde la sua vita, perché se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, ma chi lo segue deve stare dove lui è, cioè passare per quelle perdite che aprono al Regno dei Cieli. tutto questo è necessario, ma se un uomo non sa contraddirsi, se non sa accettare che la vita gli dica dei no, che lo contraddica, se un uomo non sa liberarsi dalla ombra che porta nel cuore, secondo una condizione di incirconcisione dell'anima, una realtà di cui abbiamo tutti bisogno, quella dimensione per cui abbiamo necessità di essere in una crescita, in una nascita, in un parto costante del bene e in una liberazione costante dal male. Ecco, noi non potremmo che fare cose confuse se non accettiamo questo fatto. Questa liturgia ci invita ad accettare i tagli, le perdite, le consagrazioni, i doni, una spada che entra nel nostro cuore, è la spada del discernimento, che dovrà discriminare qualcosa, c'è qualcosa nel mio cuore che io devo buttare via, sta sempre lì a darmi fastidio. Io devo vivere con costante sapienza, con costante vigilanza rispetto alle mie derive disordinate. Questo è vivere secondo la luce, questo è anche essere capaci di generare vita, una vita verso cui non si emette possesso, ma veramente, realmente. Obblatività, dono, generosità. Obblatività, dono, generosità.